ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscattolamento di fox matters un gioco da tavolo qui non ci sono autori né editori comunque è il king's pledge per cui dovrebbe avere le miniature se non mi hanno truffato qui troviamo un po di icone allora 15 giocatori età 14 più 45 minuti la durata jindy se così si legge è l'editore polacco che l'ha finanziato tramite kickstarter si basa su una strip web su un fumetto di un'autrice anch'essa polacca molto molto famoso in polonia da noi decisamente no però insomma i disini sono molto carini sono delle volpi un re un reame volposo volpino c'è un app ma non è altro che un timer per cui abbastanza aggirabile diamo diamo una misurata perché non vedo non vedo il nome dell'autore per cui spero ci sia dentro allora siamo a 28 centimetri e 7 per 22 è una profondità di 6 centimetri e 2 mi è stato consegnato ieri un kickstarter fresco fresco mi consegna in questi giorni serve una versione con le sole sagomine e una versione con le miniature delle volpi che appunto dovrebbe essere questa qui abbiamo il foglio dell'espansione già inclusa classico kickstarter poi abbiamo una guida rapida con il regolamento su due facciate qui abbiamo il regolamento vero e proprio qui c'è il tabellone ci sono le carte taloncini segnalini regole base come giocare le carte le varie fasi pianificazione azione la fase di problemi la fase riordino regolette aggiuntive e poi i credits ecco qua finalmente allora forse mi sono imbarcato in un'avventura più grande di me perché sono polacchi allora lei dovrebbe essere beata smugai l'illustratrice poi game designer jacek golebioski e lo sviluppo di rafael ciwiki chiederò scusa se la pronuncia insomma è quel inserto un po un po rovinato qualche crepo un inserto bianco niente di che un cartoncino qui abbiamo il tabello tabellone intravisto prima nelle regole si è dritto così questo è un gioco collaborativo in pratica qui ci sono i posti dove mettere i mazzi abbiamo le carte sollievo le code grigie problemi comuni e le e le volpi cavalieri volpi da soldare qui verranno messi i problemi complicati qui ci sarà l'incubo qui c'è lo spazio per i problemi comuni questi ad ogni turno scenderanno una volta sono cinque round e alla fine bisogna sconfiggere l'incubo che che è in questa colonna qui qui si accumulano appunto i problemi qui sotto si mettono le nostre carte per risolverli e le nostre pedine che tutte cose che danno icone per risolvere i problemi qui si accumulano dei talloncini problema che aggiungono invece icone che dobbiamo risolvere se ci sono due spazi perché se arriva il terzo partita finita qui infine ci sono gli spazi per gli scarti problemi le carte le volte in base al colore c'è il codice colore si intuiscono le carte le carte ecco qui un po di mazzi le guardiamo tutte infine qui abbiamo eccole le famose miniature graffettate addirittura ti ladro apriamo sta graffetta pare che visto il numero di bustine richiudibili che girano per casa potrei bellamente strappare a me ma insomma mi dispiace allora la sfiliamo ecco qui apriamo la bustina vediamo queste volpine quanto sono carucce ecco queste sono le volpi sono quattro colori cinque giallo rosso viola blu e verde sono cinque colori questo sembra un re ha una corona in testa questo ha una bandana c'è un'altra corona qui questa è una giacchetta a me sono questi tipi di questo un berretto una pentola questa è una bandoliera cinturone ok carine anche le pedine qui abbiamo i gettoni token formaggio formaggio con i buchi poi abbiamo le plancette dei giocatori dovrebbero essere 5 ogni pedina da l'icona che rappresentava ecco perché la trova la pentola perché questo da pentole questo navigatore poi questo dalla spada e questo ribelle alla bandana effettivamente si riconoscevano già dalle dalle miniature sono fronte retro per una maggiore giocabilità poi abbiamo una tessera aiuto che ricorda le fasi e cosa si fa poi abbiamo la versione base che avrebbero che avrebbe anzi ha le sagomine sulle basette vabbè non sto neanche qua aprirle mi terrò me le terrò a parte come illustrazioni sono gradevoli e ben inserite quel contesto non essendo uno che dipinge miniature magari farebbero anche più figura le sagomine piuttosto che le miniature dovessero provare e verificare qui abbiamo i taloncini problema che si giocano coperti poi si scopre cosa richiedono se richiedono dei simboli specifici e quanti oppure genericamente la quantità questi vanno messi sotto sul tabellone dove vi dicevo che se arriva il terzo la partita è finita abbiamo un po' di mazzi di carte come al solito diciamo che ve li misuro e per i curiosi creo l'appendice con la visione di tutte le carte siamo a 87 88 per 58 volpi code grigie sollievo e sicuramente qua dentro ci sono anche problemi ecco questo è un incubo un incubo qui abbiamo il simbolo fornito e qui invece i simboli che devono seguire questa carta nella concatenazione delle giocate questo invece è un incubo e ti richiede 12 simboli sollievo di cui almeno sette spade livello di difficoltà due fulminetti bene vi ricordo che da questa parte potete esprimere l'apprezzamento col pollice da quest'altra potete iscrivere il canale e tenere accesa la campanellina per ricevere i futuri aggiornamenti grazie per la visione e ora appendice come vedete le carte sono tante per cui tenetevi forte allora questo sono tutti illustrazioni uniche servizio sergius willy ernest servatius edward foxings melisa sarah sergei helga alkynda lisandra carolia sweet rhyme elisa bardosch felice arthur carp fox coca fox foxy corn jack a fox e infine draco fox jolly come avete visto ognuno ha un fumetto una battutina simpatica in inglese chiaramente quattro code grigie qui abbiamo dorian silver vixen grey brush snow shade carte sollievo queste dovrebbero essere due per illustrazione leadership make a e Wisdom che dovrebbe essere l'ultimo gruppo bene passiamo alle rogne cioè problemi comuni intanto compulsive nabbling mud splash dirty dishes deadline ruined shoes fever H in po household duties broken heart rotten fruit broken mug early wake up dirty clothes ruined cheese cold coffee dull sword running nose bad weather fleas bad luck hole in a blanket rip the teddy bear study session matted fur a burnt dinner passiamo ai complicati adulthood nightmare sandwich dishwasher breakdown unwanted gift food poisoning failed test spoiled cheese lost friend post holiday monday unwashable stains e infine gli incubi che sono il boss finale praticamente coldfeater ruiner disgustia moist damp gluten e swellina la più dura con tre fulminetti è davvero tutto e vi ringrazio per la visione grazie a tutti